...mille, una camomilla a doppia, non ho fatto la mia parola. E ti credo che è una cosa mentale, è tutto mentale. E per la fine ve lo riesco a filmare di una cammina, ma come l'ha detto? Io sveglio la mattina che sono in piazza. E se non lo fa fare l'incoglionismo. E tanto anche voi andate su Youtube. E tu sei parlando di un'amica privata? Sì, vabbè, su Facebook. Ma che rapporto avete voi due? Allora, io dico questa frase. Dillo, dillo. Dillo. Siete fidanzati. No, non siamo fidanzati. Ma lo vorresti essere. Ma non c'è sesso sentito amore per sesso. Ma non c'è sesso sentito amore. Siete trombamici. Un trombamici. Un trombamico. Perché il sesso per gioco non serve un cazzo. Però tu sai fai sesso per amore. Non stiamo assieme. La verità. Trombamico. Trombamico. Io non so se...